Una foto qua e poi liberi tutti, sennò non disturbiamo la gente che lavora. Buongiorno, non è il caso, buongiorno, buongiorno. Eh ragazzi, no, basta, se camminiamo dietro in vestia alla gente, invece di fare utile facciamo il danno. Quindi dividiamoci perché è inutile arrivare tutti insieme alla tua parte. Certo signora. Prego signora. Buongiorno. 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 Ah grazie. Benefico. Abbiamo finito. región questi. Possiamo andare qui? Possiamo andare qui. Possiamo andare qui. Possiamo andare qui. Alla posto ragazzi. Alla posto Mac².